e bravo a tutti ragazzi per un nuovo video su brawl stars direi di fare una singola e poi una raffagemme una rapina cista cadono i dite e arriviamo a visto che il mio primo video con calma 5 like iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi e possiamo dire let's go buona visione questo scemo l'incoglionito che cazzo vuole fare oh, ragazzo oh, ragazzo, ragazzo, ragazzo piatti sta medicina, piatti sta medicina piatti sta medicina piatti sto mattino, ti pedo pobbi che ti venisse una cagarella, ti giuro dove hai scappato quello scemo stupido bippi prendiamoci anche questo medicino facciamo questo stronzo questo stronzo questo è il mio primo video pensatemi sapere nei commenti per essere il primo video se sono bravo se ho mostrarsi che a fare i video anche l'intrattenimento grazie radio media radio media radio media lì c'è un bug guardato come uno scemo infame e mi scappi scappabile scappabile o perché scappi ma stai scappando ma stai scappando ma che scappa si scappa giù a grazie guarda sei lontano su stai scappando una mano piatti sta mattino piatti sta mattino piatti sto mattino cazzo pochamacchia tardino tardino sono arrivati i quarti, che merda e vabbè gettone stella proprio ci ho dato un gettone stella e vogliamo che se arriviamo a 10 like e non 5 faccio il video dove apro facciamo 10 casse piccole e una grande una di queste e facciamo 3 di queste perché io ho tanto preso nei 2 capito perché non verrà subito, se arriviamo a questi 10 like sono abituato con i youtuber bravi continuiamo in una partita assoluta mh 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 vabbè di roba il nostro bimbetto piu ti sta roba piu ti sta roba piu ti sta roba piu ti sta roba sono un coglione ottima comunque secondo me carl cioè totulio subito è bello è bello forte caro carl è molto forte secondo me cioè è il più forte di quelli che ho visto che ne ho pochi perché ci metti brusas ce l'ho da almeno un mese solo che non ci gioco me perché mi faceva schifo scusate per il lag scusate per il lag scusate per il lag pepe non tornerò in casa mia infatti ora sono in vacanza facciamo cioè non ci sarà lag quindi anche meglio per voi per quelli che stanno vedendo il resto di video poi facciamo video tutti i giorni tranne il sabato e la domenica e il martedì e il mercoledì perché forse il mercoledì ma sarò vi anche i giorni oppure potrò fargli lo senso non ho detto poi quando vi ho tratto un video ovviamente tutti a guardarlo a condividerlo raga dopo questa partita annullo il video per il mio primo video contro la rovescia quando scrivo logicamente spara che questo video vi sia piaciuto campanellino Like molti like Grazie a tutti